Negli ultimi anni sono venuti alla luce alcuni avvenimenti dai quali emerge che il governo americano in passato forse non è sempre stato esplicito in merito ad alcuni progetti che ha portato avanti. C'è anche chi ipotizza che questi avvenimenti potrebbero far parte di un complotto organizzato tuttora in corso. È vero che durante la seconda guerra mondiale la marina ha tentato di costruire una nave invisibile. È mai possibile che l'esperimento abbia avuto successo e che la nave sia successivamente riapparsa in un altro porto a centinaia di miglia di distanza e non soltanto a miglia di distanza ma anche anni più tardi? Se davvero è stato condotto un esperimento del genere gli uomini dell'equipaggio ne erano al corrente o sono stati usati come cavie inconsapevoli? Alcuni ricercatori si sono sostituiti a famosi scienziati per portare avanti ricerche segrete sui viaggi temporali, sul transito interdimensionale, sul controllo della mente senza metterne al corrente i partecipanti? Albert Einstein completò la teoria del campo unificato e insieme ad altri matematici raggiunse l'equazione che ci ha dato accesso all'invisibilità. La storia ha inizio nel gennaio del 1956. Un uomo chiamato Maurice K. Jessup, ex insegnante di matematica e di astronomia all'università, particolarmente interessato alla teoria del campo unificato di Einstein, ricevette la prima di due lettere provenienti da un uomo che si firmava Carlos Miguel Allende o Carl Allen. Con la sua grafia diseguale, Allen confermava a Jessup la validità e l'interesse per la teoria del campo unificato e che la marina americana l'aveva già sperimentata su un caccia torpediniere nel 1943. L'esito finale prova che la teoria del campo unificato è in qualche misura corretta. Il risultato è stato la completa invisibilità di una nave e di tutto il suo equipaggio. Ci tengo a specificare che la nave sperimentale scomparve dal molo di Philadelphia e solo qualche minuto dopo ricomparve nel molo di Portsmouth, di fronte a Norfolk. Fu chiaramente e distintamente identificata in quel luogo, poi scomparve di nuovo e tornò al molo di Philadelphia in pochissimi minuti o anche di meno. Questa affermazione deve aver colpito molto Jessup, dal momento che i due moli distano tra loro quasi 400 miglia. Occorrerebbero giorni e non minuti per spostare un caccia torpediniere da un molo all'altro, andate e ritorno. Non sappiamo se Jessup fece o meno ulteriori indagini. Il suo coinvolgimento in questa storia terminò il 20 aprile 59, quando venne trovato morto dentro la sua auto a Dade County Park in Florida. Apparentemente si trattava di suicidio, ma la sua famiglia e i suoi amici contestarono questo verdetto. Secondo loro, Jessup non si sarebbe mai tolto la vita. Non si trovò mai nulla che potesse suggerire un'ipotesi diversa. Una cosa era certa. Da quando aveva ricevuto la prima lettera di Allende, sino al momento della sua morte, Jessup aveva fatto di tutto per fare chiarezza sul mistero che circondava l'esperimento di Philadelphia. La marina, pur continuando a negare l'esperimento, improvvisamente cominciò a interessarsi di chiunque chiedesse informazioni sulla USS Elridge. A distanza di quasi 30 anni, quest'uomo, Alfred Bilek, sta facendo di tutto per evitare che il sipario cali di nuovo sull'intera vicenda. Il mio nome era Edward Cameron. Fin quando non mi sono reso conto del mio coinvolgimento nell'esperimento di Philadelphia, nell'88, non avevo realizzato quanto fossi stato usato e qual era il fine ultimo delle ricerche. Sto parlando dell'esperimento di Philadelphia, del progetto Mantoc, del controllo della mente. Sono tutti questi particolari che si incastrano tra loro in una rete così complessa che mi hanno spinto a rivelare informazioni riservate che sono state tenute nascoste persino dai media. Che cosa era esattamente l'esperimento di Philadelphia e perché la marina americana aveva deciso di portare avanti quella ricerca? Lo scopo dichiarato dell'esperimento era quello di rendere una nave invisibile ai radar. Lo scopo vero era l'invisibilità totale. Due scienziati si fecero avanti con delle teorie non dimostrate che diventarono parte di questo esperimento. Alla fine del 43 negli Stati Uniti l'interazione ipotizzata da Einstein tra elettricità, gravità e magnetismo sembrava adattarsi al concetto di mimetizzazione elettronica. Ma l'attuazione pratica della teoria richiedeva il contributo di un altro grande scienziato, Nikola Tesla. Tesla si interessò al progetto e ne divenne direttore. Einstein e gli altri, tra cui John von Neumann, si occuparono insieme della teoria. Lavorarono tutti alla realizzazione del progetto. Anche io collaborai con loro. A quel tempo ero ancora Edward Cameron. Era pronto lo scenario per un fantastico viaggio nei reami inesplorati della scienza. Ma la marina e gli scienziati stessi sapevano che si sarebbe trattato di un viaggio nel futuro. Qualcuno tra loro era veramente convinto che una grossa nave da guerra avrebbe potuto diventare invisibile? Chi è realmente Ed Cameron? E perché il suo corso temporale sarebbe stato modificato per fornirli una nuova identità? La nave scelta per l'esperimento era un cacciator pediniere di scorta, gli USS Elridge. Per quello che ne sappiamo, a nessuno degli oltre 30 uomini a bordo venne detto in cosa consisteva l'esperimento. Tutto quello che sapevano era che sarebbero stati resi invisibili. L'equipaggio era composto da volontari della marina, accuratamente selezionati. C'erano anche dei sotto ufficiali. Come mai si era preso sul serio quello strano progetto proposto da un gruppo di scienziati? Negli anni 70 il dottor James Corum mise insieme un gruppo di scienziati per fare una prova per vedere se esistesse una base scientifica circa gli avvenimenti che si pensava avessero avuto luogo nel corso dell'esperimento. Con sua grande sorpresa questa base esisteva. In un laboratorio gli scienziati furono in grado di replicare l'invisibilità radar usando quello che è noto come il trasformatore di Tesla. Quindi è del tutto plausibile che nel 1943 si disponesse di nozioni sufficienti per compiere l'esperimento di Filadelfia. Anzi sarebbe stata una negligenza da parte del Science Research Board della difesa se esperimenti del genere non fossero stati effettuati. Dapprima l'esperimento si chiamava Progetto Rainbow, poi venne segretato ed eseguito in due fasi. Dal punto di vista dell'invisibilità la prova andò molto bene ma l'effetto sui marinai che erano a bordo fu devastante. Alcuni si ammalarono, altri rimasero totalmente disorientati. Comunque l'obiettivo dell'invisibilità era stato raggiunto. Venne presa la decisione di andare avanti con la seconda fase imbarcando un equipaggio più due scienziati. I due scienziati eravamo io e mio fratello. A bordo c'era anche il nostro fratello minore Jim che era arruolato in marina. Tesla si ritirò dal Progetto Rainbow nel marzo del 42 e venne sostituito da un uomo che alla fine della guerra sarebbe diventato una leggenda, il dottor John von Neumann. E' a questo punto che le vite e i corsi temporali cominciarono a convergere. Io sono nato il 4 agosto 1915 a Bayshore, Long Island. Il mio nome a quell'epoca era Edward Cameron. Io e mio fratello Duncan siamo cresciuti lì. Nel 32 sono andato a Princeton dove ho conosciuto il dottor John von Neumann. Mi sono laureato in fisica ad Harvard mentre mio fratello Duncan ha frequentato l'università di Edinburgh laureandosi anche lui in fisica. Dopo aver lasciato Harvard venni reclutato insieme a mio fratello per lavorare al progetto di invisibilità della marina. Ampliamo le nostre conoscenze con nozioni come il tempo, la gravità e la fisica quantistica. Il dottor von Neumann era un ottimo insegnante. I rapporti che io inviavo alla marina avevano soprattutto a che fare con le teorie dell'invisibilità. In questo periodo ho conosciuto il dottor Einstein e Nikola Tesla, anche se entrambi avevano lasciato il progetto, seguivano con interesse le fasi di avanzamento. No, le immagini che state vedendo non sono sbagliate. Al Bilek, l'uomo che ha appena parlato, è Ed Cameron, la cui vita familiare è ampiamente documentata. Ma per capire come ha fatto Ed Cameron a diventare Al Bilek, dobbiamo tornare al 12 agosto del 43 e allo sventurato secondo esperimento. Stando alle lettere scritte da Carl Allen a Maurice Jessup, il secondo esperimento non ebbe luogo in un porto, ma in mare aperto. Il risultato fu la completa invisibilità della nave e di tutti gli uomini dell'equipaggio. L'efficacia del campo di forma sferoidale oblunga si estendeva per 100 metri oltre le estremità della nave. Ogni persona fuori da quella sfera non poteva vedere niente salvo la forma della chiglia della nave sull'acqua. Carl Allen, o Allende, è l'unico testimone oculare che si conosca che non si trovava a bordo dell'Eldridge. Ha dichiarato che quel giorno era sul piroscafo Andrew Fareset e che passò a 100 metri di distanza dall'Eldridge al momento dell'esperimento. Si trovava talmente vicino, disse, da essere in grado di tuffare la mano e il braccio sino al gomito nel campo di forza che circondava la nave. Molti anni dopo, Allen ha descritto agli investigatori ciò a cui aveva partecipato. Ho visto l'aria che circondava la nave diventare un po' più scura di tutta l'altra aria. Dopo pochi minuti ho visto alzarsi una nebbia verde, una sorta di nube sottile. Dopodiché l'USS Eldridge è diventata rapidamente invisibile agli occhi umani. Non ho idea di cosa abbia visto Allen. Quel giorno accaddero tante cose strane, ma sta di fatto che l'Eldridge scomparve dal porto di Philadelphia. Mio fratello ed io eravamo saliti a bordo sapendo che si trattava di un esperimento per testare soltanto l'invisibilità al radar. Non dovevamo ottenere l'invisibilità totale, ma si verificò comunque, almeno in parte. non si riusciva più a vedere la nave con quella nebbia. Ottenemmo l'invisibilità al radar in circa 70 secondi, ma a quel punto le cose si complicarono. Noi in sala di controllo non lo sapevamo, ma la nave era scomparsa. C'era una specie di buco nel punto dove era prima. Poi nemmeno quello, solo acque tranquille. Da Ancan e io vedemmo i tubi di elettroni scintillare in modo strano. Poi si verificarono delle scariche, delle piccole sette incandescenti. La radio era fuori uso, cercammo di intervenire sul quadro di controllo, ma era bloccato, così decidemmo di uscire. Ma sul ponte le cose erano ancora peggio. C'era nebbia verde ovunque. I marinai vagavano qua e là totalmente disorientati, quasi sul punto di impazzire. Non potevamo disattivare il dispositivo né contattare nessuno a terra. Non sapevamo nulla del resto dell'equipaggio. Decidemmo di gettarci in mare, ma non arrivamo mai in acqua. La sensazione fu di cadere in un tunnel. Non sapevamo dove eravamo né cosa accadeva. Dopo un paio di minuti, più o meno, ci ritrovammo di notte in una base militare. C'era una rete metallica alle nostre spalle. Improvvisamente un elicottero ci puntò addosso un fascio di luce. Noi non sapevamo che cosa fosse un elicottero. Nel 43 questi velivoli erano ancora in fase sperimentale. Subito dopo arrivò la polizia militare, ci afferrò, ci portò in un edificio e ci spinse dentro un ascensore. Scendemmo per diversi piani. Quando uscimmo dall'ascensore una persona anziana si presentò a noi come il dottor von Neumann. Pensamo subito che doveva essere pazzo, non poteva essere von Neumann. L'avevamo lasciato un'ora prima ed era molto più giovane. Quella era la prima delle sorprese che erano in serbo per Ed Cameron e suo fratello Duncan. L'uomo che si era presentato come von Neumann disse loro che non si trovavano a Filadelfia nell'anno 1943, ma a Montauk, Long Island, e che l'anno era il 1983. Poi mostrò loro alcune meraviglie tecnologiche impensabili 40 anni prima e li avvisò che si trovavano nella sede del progetto Phoenix. L'Eldridge si trovava ormai nell'iperspazio e la bolla stava crescendo. Von Neumann ci disse di tornare a bordo della nave e di distruggere l'apparecchiatura. Disse che era tutto sotto controllo e che potevano spedirci nel tempo e nello spazio. Entrammo nel tunnel del tempo e ci ritrovammo sull'Eldridge, afferrammo delle asce e distruggemmo l'apparecchiatura. Le cose cominciarono ad andare a ritroso e ci ritrovammo nel porto da cui eravamo spariti. E lì realizzammo l'orrore di quell'esperimento. Per alcuni l'esperienza era stata uno stress violentissimo, altri erano morti in seguito a un attacco cardiaco. Altri ancora erano disorientati, non sapevano dove erano stati né dove si trovavano. Ma la cosa più orribile fu che alcuni, tra cui mio fratello Jim, erano stati inglobati nell'acciaio delle paratie. Quando il campo aveva collassato, le strutture molecolari dei marinai si scomposero. E chi era vicino a qualcosa venne inglobato nella materia. Duncan non resistette a vedere Jim ridotto così e si tuffò fuori bordo e scomparve nel futuro. Io rimasi con Jim e aspettai il collasso totale dei campi. È possibile che una nave della marina americana, dall'aspetto così inoffensivo, abbia vissuto tutto questo. Che abbia attraversato l'iperspazio come un sasso attraversa uno stagno, saltando nel futuro per poi ritornare indietro. Comunque stiano le cose, i testimoni sono soltanto due, Carl Allen o Carlos Allende, le cui lettere a Maurice Jessup, astronomo e scrittore, hanno dato il via a tutta la ricerca, e Al Bilek, che al momento dell'esperimento di Philadelphia si chiamava Ed Cameron. Il racconto fantastico di quest'ultimo sui corsi temporali e sull'iperspazio può aver generato in molti una certa perplessità. Ma è possibile che non ci sia nessun altro indizio, nessun'altra persona che possa confermare i loro racconti? Allen fa riferimento a un giornale di Philadelphia, in cui si parla di uno strano fatto avvenuto in un bar del porto, un fatto che guarda casa o la marina sostiene di non conoscere. Secondo l'articolo, tre marinai sono apparsi in un bar come se provenissero da una stanza sul retro. Il problema era che non esistevano stanze sul retro. L'articolo proseguiva dicendo che poi se ne erano andati allo stesso modo, sempre da quella stanza sul retro. Sia Albert Einstein che Nikola Tesla avevano rinunciato ai loro studi sulla teoria del campo unificato anni prima che l'esperimento avesse luogo. Ma malgrado le smentite della marina, un certo numero di investigatori sono convinti che quel giorno sia stata testata non soltanto l'invisibilità ottica, ma anche una macchina del tempo. Secondo un'intervista fatta a Edward Ergen, che è stato uno dei testimoni a bordo dell'Hangstrom, una delle navi presenti all'esperimento, la Eldridge scomparve dal porto alle 11 di sera e rientrò a Philadelphia il mattino successivo, cosa che sembra impossibile. Se guardiamo una carta nautica vedremo che un mercantile avrebbe impiegato due giorni ad aggirare le reti dei sottomarini, le mine e via discorrendo. Ma la marina aveva a disposizione uno speciale canale interno che le consentiva di scavalcare tutto questo. Dajan afferma che l'Eldridge fece il suo viaggio in circa sei ore. Ma allora l'intera storia è soltanto una leggenda? Carl Allen si è inventato tutto? L'incredibile racconto di Alville che non è altro che una menzogna? Memorie modificate o perdute, viaggi nello spazio e battaglie contro nemici misteriosi e sconosciuti. O potrebbe far parte tutto di un complotto? Forse l'unica domanda che dovremmo porci è se da tutto questo verrà mai fuori qualcosa di buono.